Sono appena tornato dal Salone del Mobile qui a Milano e voglio condividere alcune pillole a caldo. Colori, forme, tendenze e materiali che in questo 2023 detteranno tendenze con cui potremmo lavorare. Una specie di cosa non puoi non sapere del design del 2023. Quindi parto dai colori. Tutti pastello, solo pastello. È tornato il rosa. Il rosa. Siamo tornati negli anni 80 con i muri rosellini. Sì, tantissimo rosa tenue, alcuni accenni anche di rosa intensi, modulazioni che vanno da rosa a rosso mattone, passando per il magenta con qualcuno che osa quasi al fucsia. Interi stand sono addirittura tutti rosa, ma tantissimo rosso mattone. Sovente accostato agli altri protagonisti della cromia attuale, il giallino, il verdolino tenue e l'azzurino tenue. Tanto, tantissimo rosso mattone, spesso accostato al verde esmeraldo o al verde intenso ma stemperato. Con un po' di bianco. Materiali. Parlavo del rosso mattone, che va letto nella tendenza ai materiali naturali. E io ho apprezzato spesso vedere pavimenti e muri in laterizio a vista, quindi proprio al naturale, con anche l'intonachino grezzo e tanto legno al naturale. Ecco, il legno al naturale la fa la padrone rispetto ai trattati. Tendenzialmente è chiaro, c'è pochissimo noce, piacciono i frassini e le essenze venate o fiammate. E si usano anche i compensati al grezzo. Scomparsi completamente i rigatini, quelli cannettati, che negli ultimi due anni hanno imperversato in tutti gli stand. Spariti. Come sono spariti? Anche i legni sbiancati o maltrattati con trattamenti micidiali. Meno male perché mi hanno sempre fatto ribrezzo. Bello il materiale naturale, ma se lo saturi con procedimenti aggressivi, che naturale è? Parlo di quei legni sbiancati che diventano bianchi, quelle robacce lì. Vetri e specchi al naturale o smaltati in colori pastello scuro. E udite udite, l'alluminio nodizzato al naturale o lucidato. Per fortuna solo silver. No agli ottoni o i bronzi. Capitolo tessuti, tramati, bouclé, vellutati grezzi, melange dei colori. Però sempre tridimensionarli e ruvidini, un po' spessi, che danno l'idea del grezzo. Mi piacciono molto i colori pastelloni sui tessuti, spesso tenuti accostando la trama bianca alla trama colore intenso, che visto da lontano, dà l'idea del colore pastello. Pelli e cuoio naturale. Fibre naturali come il cocco, la juta, la paglia, il legno intrecciato come un tessuto. Ma il tema comune è il naturale, che crea anche tanto comfort percettivo per quanto mi riguarda. Si sta bene in questi spazi dove il materiale è tanto naturale. Aspetta, prima parlavo dei colori e ho tralasciato i grigi, i bianchi, i neri. Sono molto meno usati a favore dei pastellini tenui di cui ho appena parlato, ma sono ancora presenti. Spesso fanno da sfondo neutro a scene in cui spicca qua e là un colore più evidente, che fa da protagonista. Capitolo forme. Si conferma il ritorno della forma organica con elementi affusolati che ricordano ossa e tendini, spesso nelle gambe dei tavoli, nelle seggiole. La lamella verticale in legno, che a me piace da sempre, verticale orizzontale, è sempre usata, ma mai come quest'anno però, di tante dimensioni, con lame che vanno dai 3x8 ai 7x17. Piace ancora riprodurre le gambe inclinate degli anni 60, che supportano mobiletti scatolari, spigolosi, oppure poltroncini un po' sinuose. Ma accanto al parallelo epipedo rigido c'è anche il tanto cerchio. In tanti ho visto che stanno alzando gli schienali dei divani, per renderli un po' più comodi ed ergonomici. Dai, proseguite così che si va nella direzione giusta. È più difficile fare un bel divano con lo schienale alto, ma qualcuno ci riesce. Adesso vorrei fare alcune menzioni speciali. Caini. Piccolo stand ma incredibile varietà di elementi d'arredo specializzati nel trattamento acustico degli ambienti. Tende, pannelli, trappole acustiche, ma anche tavoli, divani e pouf, pensati e ottimizzati per stravolgere in meglio l'acustica degli ambienti. Gli essenziali in ufficio per aumentare il comfort lavorativo, favolosi in casa, bravissimi, eccezionali. Edra. Amo da sempre i loro divani con gli schienali alti e comodissimi. Se ne è aggiunto uno nuovo, con una bella gamba a sfera. Si chiama Standway. Favoloso lo stand di Cartel che, come sempre, non sbaglia un colpo. Ecco, Cartel in uno stand ti riassume tutti i colori di tendenza di quest'anno. Anche Harper, in effetti, è stato un ottimo catalogo dei colori di quest'anno. È incolmiabile Zanotta che riproduce ancora una volta e sempre benissimo la poltrona Gilda di Mollino, attualizzata con i colori di oggi. E poi, devo dire, desalto. Ha dei prodotti spettacolari, forse fra i più bei tavoli in commercio. Io ho un Helsinki 35 allungabile che è uno spettacolo. E non li espone. A favore di un'esposizione tutta in blu, di poche cose. Ma, basta, mi fermo qui. Anche perché non volevo fare una rassegna di tutto il Salone 2023. Mi interessa piuttosto evidenziare gli elementi essenziali di questa edizione e del trend attuale del design. Spero che ti sia stato utile e, se ti è piaciuto questo video, metti un pollice in su ed iscriviti al canale. Ciao ciao! Grazie a tutti!